E continuiamo a parlare di libri, si chiama L'ultimo abbraccio, è di nuovo ancora con noi Gian Ettore Gassani, è il suo primo romanzo, le chiedo innanzitutto come è nata dunque l'idea di scrivere un libro. Ma guardi, ho scritto tantissimi saggi, tantissimi testi tecnici come si sa, ovviamente questa volta ho voluto sfidare un po' la sorta anche perché scrivere un romanzo è tutta altra cosa. Diciamo che nasce da un progetto di dieci anni fa, insomma molte volte avevo abbandonato questo libro perché avevo paura di non farcela. Senta, questo è un libro che parla di adozione, di nostalgia, di famiglie, di nuove famiglie, ecco sullo sfondo c'è l'Ucraina, una terra che lei conosce molto bene a livello professionale proprio perché si è occupato di adozioni internazionali. Sì, di adozioni ma anche di affidamenti temporanei, tenga presente per esempio già nella città di Roma e nel Lazio migliaia di ragazzini di Chernobyl nel corso degli anni sono stati ospitati dalle famiglie romane, del Lazio in generale, ma italiane, perché l'Italia è sempre stata dai primi posti nel mondo come solidarietà, ma questo è un libro che non parla soltanto di bambini o di adozioni, parla soprattutto di adulti, parla di fragilità di noi adulti, incapacità molte volte di interagire con i ragazzi, ma è una storia di speranza, di solidarietà, di rinascita, di via d'uscita. È un libro che mi ha preso molto, un libro potente e vedo che sta avendo un grande successo. Quindi è anche un ritorno alle radici, il bisogno di trovare le proprie radici, la propria famiglia, ecco che cosa le ha lasciato questa esperienza, ecco di riportare anche la sua esperienza professionale poi in un racconto, in un romanzo? Ho fatto di tutto per non scrivere in avvocatese, non coinvolgermi troppo nel racconto, è stato un libro molto difficile, anche questo motivo, perché ci sono cinque bambini che a un certo momento dovranno sfidare la sorte ragazzi senza famiglia, che riusciranno poi a avere una propria vita, grazie a Dimitri, un anziano. Allora leggiamolo, l'ultimo abbraccio, io la ringrazio avvocato Giannetto Regastani per essere stato con noi, per averci accompagnato anche in questo racconto con cui abbiamo aperto la puntata e abbiamo trattato in maniera approfondita la strage di Fidene e noi torniamo in diretta da Rosario.